Lidia Maximovic porta al Salone del Libro di Torino il suo libro La bambina che non sapeva odiare. Un concentrato di emozioni ma soprattutto un messaggio per i giovani. Durante gli incontri con i giovani sia in Polonia che qui in Italia io racconto la mia storia e questo è il mio monito per i giovani per ricordare, per non dimenticare e questo è anche il mio ammonimento che cosa può succedere se perderemo la memoria. Il nostro confine in Ucraina sta succedendo una situazione in imaginabile, impensabile nel vento unesimo secolo. La guerra causata dal odio. Di una persona con le aspirazioni malate. Possiamo fare un appello alla pace? Il mio obbligo è un appello ai giovani e ai potenti del mondo di fermare questa folia che sta succedendo in Ucraina causata per odio. e io chiedo di immaginare fino a che ci può portare questa folia. Grazie. Grazie. Grazie.